Quando tornò, il padre, vedendo il disastro, gli chiese «Chi ha fatto questo?» Abramo rispose «Una donna mi ha chiesto di offrire un vassoio di farina agli idoli Ma quando gli idoli hanno visto la farina, uno diceva «Mangio io per prima!» L'altro «No, tocca a me per primo!» Il più grande allora si è alzato Ha preso il bastone e li ha rotti tutti quanti Terak replicò «Abramo, tu ti stai prendendo gioco di me! Gli idoli non sono in grado di fare questo!» Abramo riprese «Padre mio, se tu sei consapevole di questo, perché li vendi, fingendo di credere in loro?» Poi Terak prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abram, suo figlio «E uscì con loro da Ur dei Caldei per andare in terra di Canaan» Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono Due semplici versetti che ci introducono nella vicenda di Abramo Abramo aveva nasce in una famiglia pagana Ha un padre pagano Che lo obbliga probabilmente ad un passo che Abram non si sarebbe mai sognato Quello di mettersi in cammino per un lungo viaggio La cosa più curiosa è che nel mezzo di questo lungo viaggio suo padre muore E Abram resta solo Abram resta solo ma con nel cuore un valore forte che il padre, pur essendo pagano, gli ha regalato Quello di saper educarlo al cammino Quel cammino che lo accompagnerà da Panti lungo tutta la sua esistenza E che rappresenterà il fondamento della sua grande fede Eccola perla nascosta che ci viene data dal testo proprio all'inizio di tutta la vicenda del grande patriarca Incontriamo il nostro personaggio, il nostro compagno di viaggio Abramo Focalizzando un po' la nostra attenzione sulla dimensione più umana del cammino di Abramo Abramo viene chiamato dal Signore che gli dice Battene dalla tua terra, dalla tua parentela, verso la terra che Dio ti indicherò La vita, la nostra vita è una chiamata Una chiamata a camminare A camminare verso una terra che il Signore indica Ma il Signore ha una pedagogia tutta particolare Perché indica la strada cammin facendo Don Alberione, il fondatore della famiglia Paolina, osava dire che Durante il cammino il Signore accende le lampadine man mano che occorre Non le accende subito Proprio perché questo mistero si possa svelare a noi e agli altri A quanti ci circondano progressivamente E man mano che si cammina si scopre e si prende consapevolezza di quello che si è Nella propria fragilità ma anche nella propria bellezza Ovviamente ciascuno di noi è chiamato a trovare il passo giusto Per chi è pratico delle scalate in montagna Sa bene come se si decide di scalare una montagna Bisogna fare attenzione a non correre troppo E neanche ad andare troppo lentamente La sfida è quella di trovare il passo giusto E di mettere prima un piede e poi l'altro Il piede che rimane dietro è il piede del passato Della memoria, di quello che è stato, di quanto abbiamo vissuto Il piede che va avanti è il piede che osa Il piede che rischia Il piede che fa lo sforzo come è stato per Abramo Di camminare nonostante non sappia quello che trova più in là Però Abramo come ciascuno di noi è chiamato a fare ad essere Sa e crede profondamente nella capacità di Dio Di mantenere fede alle sue promesse Perciò dal punto di vista umano Cosa possiamo dire per la vita di ciascuno di noi Certamente il cammino a volte può essere faticoso Può essere anche un po' contorto La strada di montagna a volte ci fa vedere un orizzonte più ampio Altre volte un po' più ristretto L'importante è non perdere la speranza La speranza è la fede che ci ricorda Che più in là c'è un qualcosa che ci attende E che attende ciascuno di noi Per poter alla fine dire sì In un abbraccio che è l'abbraccio di vita Così come è stato per Abramo Al termine di questo nostro approfondimento su Abramo Suggeriamo un testo Un testo per continuare a approfondire questo personaggio Il testo è scritto da un biblista André Wenén Da Adamo ad Abramo L'errare dell'uomo La ricchezza di questa prospettiva Che ci introduce nella figura di Abramo Attraverso il percorso lungo i primi dodici capitoli Del libro della Genesi Ci aiuta a entrare a contatto Con l'esperienza del patriarca Da un punto di vista narrativo e antropologico Quello in altre parole che è importante È tenere presente che Abramo Non spunta dal nulla nella storia della salvezza Ma si pone in continuità Con l'esperienza di quei grandi scenari Dei primi capitoli della Genesi Lo scenario di Adamo ed Eva Lo scenario di Caino e Abele Di Noè E della torre di Babele Abramo interviene a sanare quei nodi Che proprio nei capitoli precedenti Sono sorti nella storia della salvezza Ecco allora un ottimo testo per approfondire Noi invece ci diamo appuntamento Alla prossima puntata di questa serie Che sarà dedicata al patriarca Giacobbe Noi invece ci diamo appuntamento Noi invece ci diamo appuntamento Ciao a tutti